ora nel corso dell'evoluzione dell'umanità è subentrata per l'uomo una fase per la quale a mano a mano gli è venuto impossibile staccar più il corpo eterico da quello fisico senza determinare un vasto perturbamento di tutte le funzioni infatti tutta l'evoluzione post atlantea andò a finire in un consolidamento sempre maggiore del corpo eterico nel corpo fisico perciò fu necessario adottare altri metodi per i quali il corpo astrale anche senza la separazione del corpo eterico da quello fisico purché sufficientemente sviluppato nel corso della catarsi nell'atto di rientrare da solo nel corpo eterico e nel fisico nonostante l'impedimento di quest'ultimo giungesse ad imprimere i propri organi nel corpo eterico dunque quello che occorreva era che nella meditazione e nella concentrazione operassero forze più possenti affinché si determinassero nel corpo astrale degli impulsi vigorosi capaci di superare la forza di resistenza del corpo fisico per prima venne allora l'iniziazione veramente specificamente cristiana la quale richiedeva che l'uomo si assoggettasse ai procedimenti che sono stati nel video precedente descritti come i sette gradini quando l'uomo ha attraversato queste sensazioni e questi sentimenti il suo corpo astrale ne rimane così lavorato da formare plasticamente i suoi organi di percezione talvolta vi impiega negli anni ma può anche arrivarti prima o più tardi e da imprimerli poi nel corpo eterico per fare così dell'uomo un illuminato potrei descrivere perfettamente questo genere di iniziazione che è specificamente cristiano se invece di tenere delle conferenze ancora per qualche giorno potessi tenervene una al giorno su tutti i dettagli per circa due settimane ma questo non importa importava ieri di indicarvi certi particolari dell'iniziazione cristiana vogliamo renderci tutti soltanto del principio a cui essa si informa per il fatto di traversare un procedimento simile l'uomo effettivamente è in condizione di conseguire l'iniziazione senza i tre giorni e mezzo di sonno letargico specialmente se il discepolo cristiano medita continuamente sui versetti del vangelo di giovanni se ogni giorno egli fa agire su di se i primi versetti di quel vangelo dalle parole nel principio era il verbo fino alle altre pieno di grazia e di verità egli fa una meditazione di enorme importanza questa forza i versetti l'hanno in sé perché questo vangelo di giovanni nella sua unità non esiste affatto per essere solamente letto e compreso con intelligenza ma al contrario deve essere vissuto e sentito interiormente allora esso è una forza che viene in aiuto all'iniziazione e lavora per essa e allora si sperimentano la lavanda dei piedi la flagellazione ed altri processi interiori visioni astrali tutte nel modo preciso come vengono descritti dal capitolo 13 in poi ma l'iniziazione rosicruciana quantunque fondata su basi cristiane opera piuttosto con altre rappresentazioni simboliche che determinano la catarsi e precisamente con immaginazioni figurate questa è una nuova modificazione che si è dovuta introdurre perché l'umanità da parte sua aveva percorso un altro tratto della propria evoluzione e il metodo nell'iniziazione deve adeguarsi ai progressi che l'umanità a mano a mano va compiendo dobbiamo ora comprendere che l'uomo quando conseguirà questa iniziazione diverrà in fondo affatto diverso da quel che era prima mentre prima non era in rapporto altro che con le cose del mondo fisico invece dopo acquista la possibilità di praticare ugualmente i processi e gli esseri del mondo spirituale questo implica che l'uomo raggiunge la conoscenza in un senso molto più reale di quello astratto timido rosaico con cui si parla ordinariamente della conoscenza per chi consegue la conoscenza spirituale il processo cognitivo è anche tutt'altro è una vera e propria realizzazione del bel detto conosci te stesso ma è pericolosissima cosa nella sfera della conoscenza comprendere questo detto in modo errato come oggi di succede anche troppo spesso molti si spiegano quel detto nel senso che essi non debbono più guardare attorno nel mondo ma soltanto curiosare nella propria interiorità o cercare in essa sola ogni spiritualità questa è un'interpretazione molto errata di quel detto che invece tutt'altro significato l'uomo deve rendersi chiaramente conto che una vera conoscenza superiore è anche un'evoluzione che da un punto di vista che l'uomo aveva già raggiunto conduce ad un altro che prima non aveva ancora raggiunto se ci si esercita nell'autoconoscenza in modo come se ci si covasse interiormente si vede soltanto ciò che già prima si aveva non si acquista nulla di nuovo ma solamente una conoscenza intesa nel senso che oggi è corrente del proprio io inferiore questa interiorità non è che una parte di quanto si richiede per la conoscenza l'altra parte che le occorre deve ancora aggiungersi e senza entrambe le parti non si conclude nulla per mezzo dell'interiorità l'uomo può arrivare a sviluppare in sé gli organi con i quali esercita le sue facoltà cognitive ma come l'occhio organo sensorio esteriore non conoscerebbe il sole se guardasse introspettivamente in sé stesso invece di guardar fuori verso il sole stesso così del pari anche l'organo cognitivo interiore deve guardar fuori si intende verso un'esteriorità spirituale per poter veramente conoscere il concetto di conoscenza aveva nei tempi in cui si intendevano le cose spirituali più realisticamente un significato molto più profondo più realistico di oggi leggete nella bibbia che cosa significa abraham conobbe sua moglie oppure che questo quel patriarca conobbe la propria moglie non dovete faticare molto a comprendere a comprendere che in quei passi si intende parlare di fecondazione e se si considera il detto conosci te stesso in greco non significa va a curiosare nella tua interiorità ma feconda il tuo sé con ciò che fluisce a te dal mondo spirituale conosci te stesso significa feconda te stesso col contenuto del mondo spirituale all'uomo occorrono due requisiti che l'uomo si prepari con la catarsi e l'illuminazione e poi che apra la sua interiorità liberamente al mondo spirituale in questa connessione con la conoscenza possiamo paragonare l'interiorità dell'uomo all'elemento femminile e l'esteriorità al maschile l'interiorità bisogna renderla atta a ricevere il sé superiore quando a ciò si è resa atta il sé superiore dell'uomo dal mondo superiore fluisce e penetra nell'uomo stesso infatti dov'è il sé superiore dell'uomo? sta forse là dentro nella persona umana? no durante i periodi di saturno del sole e della luna il sé superiore era riversato sull'intero cosmo l'io del cosmo allora fu riversato sull'uomo e questo io l'uomo deve far lavorare su di sé deve farlo lavorare sulla propria interiorità preparata in precedenza vale a dire che deve essere purificata e purgata nobilitata assoggettata alla catarsi l'interiorità dell'uomo in altre parole il suo corpo astrale allora egli può aspettarsi che la sua spiritualità esteriore penetri in lui ad illuminarlo e questo succede quando l'uomo è tanto ben preparato da aver sottoposto il suo corpo astrale alla catarsi e da avere per tal mezzo formato i suoi organi interiori di conoscenza allora il corpo astrale è sotto ogni riguardo tanto progredito quando si immerge nel corpo eterico e in quello fisico da far seguire l'illuminazione il fotismo ciò che veramente si verifica per l'appunto è che il corpo astrale dà al corpo eterico l'impronta dei propri organi con che si determina il fatto che l'uomo percepisce il mondo spirituale che gli sta attorno ossia che la sua interiorità il corpo astrale accoglie ciò che gli può offrire il corpo eterico ciò che il corpo eterico gli trae da tutto il cosmo dall'io cosmico